Nuovo video di Eurotrack Simulator 2 Siamo sempre qua con il mio Scania Adesso ce l'ho questo Mercedes che si è fermato a fare benzina Io direi subito di ripartire che oggi bisogna fare minimo 300 km Boom Partiamo subito Via Allora oggi faremo una tratta più o meno di 300 km Poi la concluderò io Se non ve l'ho già letto dalla prossima puntata Mi trasporto a Montpellier E almeno così Vediamo anche non solo in Italia Ma anche un po' fuori Un po' fuori dall'Italia Perché sempre Italia è sempre brutta Cioè è noiosa più che altro Ho appena fatto la pausa Cioè ho fatto una pausa di Diciamo di Un'ora e mezza Due più o meno Quasi due ore La strada l'abbiamo già fatta Col Volvo È brutta Cioè è bella non farlo Bella farla con la macchina Con questa strada Cioè con un camion Con un autotreno Non è tanto bella Piano piano saliamo La rèno La rèno Mi sa che per comprare Un Mercedes o un Cioè così Un Mercedes o un Renault Mi toccherà fare un prestito Mi toccherà fare un prestito Di 100.000 Di 100.000 Poi pagherò un po' Un po' rate Un po' rate Perché se no Cioè non so Se no devo sempre portarvi Un massimo Faccio un prestito Di 400.000 Mi compro un Renault E un Mercedes Cos'è che poi mancava Renault e Mercedes E poi però Bisogna restituirlo Sto prestito Quindi bisogna metterci Poi Ci dobbiamo mettere Poi di buon Buon auspicio Diciamo così Di buon voglia E Farsi soldi Poi veloce qua Sto andando Se strada l'ho già fatta Aspetta e guarda A me sembrava di sì Poi non ne sono sicuro Allora Sì sì l'ho già fatta Ma poi c'è l'autostrada Ok Quasi finita Meno male Cioè mi piace Sta strada Per carità Però è meglio Entrare in autostrada Cioè Noi così facciamo prima Cioè bella tranquilla Questa strada Bizarca Sì sì l'ho già fatta Sì sì l'ho già fatta Sì l'ho già fatta Sì l'ho già fatta Allora 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 Prossimo video Mista prossimi video Ci sarà un Mercedes Sì l'ho già fatta Chiara solo Sono le due A mezzo Già Tu manca Cento chilometri Quanto ore Ti guidò Tre ore Sì l'ho già fatta 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 Quattro strada normale Abbiamo fatto poca autostrada fino ad adesso Non si è all'inizio, basta Non si sta bene senza fare autostrada Sero che quelle stradine non ci vogliono Se qua sono appena uscite autostrada Qua quanti escono per l'autostrada? Mi sa che è una uscita unica Ci sono i 90 qua mi sa 87 Tranquilli tranquilli 145 380 litri Maremma Ho bevuto tanto Ho fatto fuori Eh sì siamo lì Più o meno 200 Cioè Più o meno ha una media di due chilometri con un litro Sto camion Piano piano Allegramente E la scuola non fa niente Tra un'ora e mezza fra quanto sospendere Un'ora e mezza Nessuno ha 18 chilometri A presto Lo so via quando vuoi girare un baglio nice ah ho sbagliato strada come si all'altro mi diceva di farla rotonda piano piano andiamo piano piano andiamo appena detto andiamo qua qualche spettacolo più approfonditamente niente allora qua niente ci fermiamo qua poi consegnerò io sì sì ma questa puntata magari dura solo solo 10 quarto d'ora più o meno ancora parcheggio e faccio tutto un quarto d'ora scusate ma allora no no madonna passa madonna che lento non fa un culo le buro un incidente stronza mi ha scappato e beh sì no 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 C'è qua? C'è più che altro? Polarfish E buono raga Anche questa puntata Mi dispiace ma è da concludere qua Io vi ringrazio Per la visione Questo viaggio lo finirò io Ci vediamo nel prossimo video con Il Mercedes Ciao